Con oltre 500.000 clienti che hanno scelto SEAT Ibiza, questa vettura diventa uno dei modelli del segmento più venduti in Europa. Noi ci siamo messi al volante della FR, che ha un eccezionale carattere sportivo ed una potenza di 150 CV grazie al 1.4 TSI con doppia sovralimentazione. Inutile dire che seduce con il suo design giovane e convince per la tecnologia innovativa. Non parliamo certo di una sportiva puro sangue, ma piuttosto di un'automobile brillante, divertente e facile nella guida, che non trascura il comfort. Le sospensioni non sono così rigide da far sobbalzare ad ogni minima imperfezione dell'asfalto e nel traffico l'assenza del pedale e della frizione è una gran comodità. Il propulsore si rivela grintoso sin dai bassi regimi ed è in grado di inserirsi in curva con prontezza, contando su un rollio minimo, un cambio rapido ed uno sterzo preciso. Negli interni è elevata la qualità e la tecnologia, che si presentano con un abitacolo deciso, pulito e bestrutturato. Unica nota negativa ai sedili posteriori, lo spazio per i passeggiari infatti è un po' limitato, insomma la vettura è adatta anche ai viaggi su lunghe distanze, considerati consumi ridotti, ma in due è sicuramente più comoda. Grazie per la visione!